Aperto qua a Rivarolo da pochi mesi, ad ottobre del 2022, la sede della British Torino, ricordiamo che la sede è una tra le più rinomate scuole di inglese, a Torino appunto è presente in Corso Vittorio Emanuele VI, qua a Rivarolo è presente in Piazza Chioratti numero 2. Siamo qua con la titolare, la dottoressa Emma Fedham, benvenuta, che appunto è la titolare della British Torino, una, come ho appena detto, delle scuole più importanti e che è vincitrice tra l'altro di numerosi premi internazionali. Sì, abbiamo vinto numerosi premi sia da Cambridge sia da Yale per risultati record, questo grazie alle nostre insegnanti che sono non solo madrelingua, come si può sentire, sono madrelingua inglese, ma sono tutte specializzate e qualificate nelle vere fasce di età, le vere livelli eccetera, quindi siamo molto fiere di questo premio che è molto importante per noi. Quindi i vostri insegnanti sono totalmente madrelingua, quindi sono dei professionisti della lingua inglese, possiamo così definirli, essendo comunque appunto madrelingua, fate corsi sia per bambini che corsi rivolti alle aziende. Sì, 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 abbiamo degli insegnanti specializzati per i bambini, quindi abbiamo un percorso per i Kids Club, che sono i piccini, che è un percorso molto ludico, molto gioioso, che è di insegnanti specializzati per questa fascia. Poi abbiamo una fascia di età di 6-14 anni, che noi tendenzialmente siamo più propensi a fare i corsi con i certificati internazionali, che dà un fine importante al corso. Sono percorsi di una volta a settimana, di un'ora e mezza, con l'insegnante madrelingua e dura dall'inizio dell'anno fino a giugno, che possono talconemente fare il loro certificato in lingua inglese. Poi abbiamo il percorso per i certificati un po' più difficili, un po' più alti, dal Catfile Proficiency. Appunto, abbiamo vinto i premi per i risultati di record, siamo molto fieri di questi premi, sono setti anni di fila, quindi ovviamente purtroppo tolendo i due anni di Covid, perché siamo stati purtroppo tutti bloccati in quello. Abbiamo vinto per i risultati di record e non soltanto, abbiamo avuto la prima bambina, perché era veramente una ragazzina, che ha fatto il PET, che aveva dieci anni. E poi, la più giovane in tutta Italia, di poter affrontare un certificato come Proficiency, che è molto difficile, perché uno quando ha Proficiency in mano è considerato il più bilingue di tutti gli effetti. Quindi puntiamo molto sulla qualità, i ragazzi sono al massimo di sei in aula e questo per noi è molto importante. Poi per quanto riguarda il settore business, abbiamo la fortuna di avere un ex avvocatessa, che non piaceva fare l'avvocato, ha preso l'abilità di insegnare l'inglese come una lingua straniera e io, avendo le dottorate in economia, abbiamo studiato dei precorsi ad hoc alle aziende. Importante l'inglese per avere comunque delle delle prospettive anche di ampliare i tavoli di trattativa con l'estero, importante anche tra i corsi finalizzati, anche quelli relativi all'ambiente legale. Sì, infatti Legal English siamo molto fiere di questa piccola carta vincente, perché appunto, come spiegavo prima, abbiamo avuto la fortuna di questa insegnante che è un'ex avvocatessa e insieme abbiamo studiato dei dei precorsi ad hoc. Ad oggi siamo l'unico a Piemonte di fare Legal English fatto ad hoc. Ci sono due scuole in Milano e una a Roma, quindi la nostra piccola fortuna mettiamola così. Poi, come spiegavamo prima, avendo le dottorate in economia, Business English è troppo generico, quindi facciamo i corsi proprio studiato ad hoc e fatto su misura per ogni settore, quindi ci sono il meccanico, il financial, il business e quindi… Quindi se un'azienda vuole ampliare la propria conoscenza della lingua inglese può rivolgersi direttamente a voi e avrà ovviamente anche delle agevolazioni. Sì, per fortuna sì, noi siamo collegati sia i fondi di impresa sia i fondi come altri utenti. Abbiamo anche i vari sistemi welfare per copia dipendente e in quel caso fissiamo appuntamenti con le aziende, mandiamo un'insegnante specializzata nel settore, si fa i vari test ingressi, lezioni di prova, noi alla British preferiamo lezioni di prova perché molto spesso, soprattutto nel settore business, lezioni di domenica e quindi magari facendo una piccola valutazione orale e scritto, tirare fuori i livelli inglesi e poi studiamo un percorso al docker ogni singolo aziende. Quindi i percorsi sono emirati per il settore e anche per la tipologia di azienda in base alle esigenze dell'azienda. Sì, anche l'esigenza della propria azienda e anche la propria esigenza anche alla propria dipendente. Quindi lì abbiamo anche non soltanto i corsi mirati all'azienda con i fondi, ma anche i veri sistemi di welfare dove comunque l'impiegata, se l'azienda non paga il proprio corso, ha una legislazione con il proprio welfare per essere British. Quindi cerchiamo di dare l'inglese a tutti. C'è una prossima opportunità. Quindi per tutte le aziende che volessero ricevere maggiore informazione su tutti i corsi, sulle tempistiche e sui costi, può rivolgersi alla British Torino consultando il sito internet www.britishtorino.com e all'interno del sito troverete tutti i contatti soprattutto della sede di Rivarolo dove potrete mettervi appunto in contatto e chiamare per avere un preventivo adatto alle vostre esigenze. Grazie, grazie mille. Grazie a te. Grazie, buona giornata. Che buona giornata. Grazie a te.